Musica Adrino Zennaro prosegue anche nella seconda settimana lo stage della sua scuola a calcio insieme al suo collega Com'è questa seconda settimana? Ci sono tante presenze, tanti ragazzi del posto e della zona, della vallata Abbiamo più di 45 ragazzi ospiti dell'hotel Villa Glicini e del ristorante Crutin di San Secondo dove alloggiano e vivono nella parte serale della giornata Tanti di questi arrivano dal Veneto, arrivano da Ligure, da Alessandria, da Torino e da diverse società anche molto importanti e blasonate della regione I ragazzi sono contenti, gli allenamenti sono qualificati e quindi anche il risultato sportivo agonistico ne trarà beneficio Tutta la parte della mattina che viene applicata la mattina e al pomeriggio serve a migliorare le attitudini del ragazzo in base all'età dal mattino viene presa in considerazione l'età del ragazzo e viene creata ad hoc un'attività ludica legata alla crescita calcistica del ragazzo Quindi è una bella esperienza per questi ragazzi è stata apprezzata molto anche perché si sono riproposte nelle due settimane tanti dei ragazzi Via! Prendere la palla e andare al vostro gruppo! Alle! Alle! Non soppeso! Facciita! Non soppositi! Tutto occhi possibile trampare le vicinezioni l'altro Esterne! Vieni là vicino! Bravo! Solo destro, il sinistro non lo voglio vedere usare, lo usiamo dopo Voi dove andate? 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 Bravissimi! Siamo? Interno, esterno, interno, esterno, parte lui Andiamo avanti e indietro Qua, giro, torno al connesso